3, 3, 3, 3 giorni, stop, problem, 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 from Greece, Grecia, 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 sono dei, stop, camion, dormire camion, per mangiare camion, te ha gano, è come problem, doveva arrivare in Germania, Deutschland, Deutschland, sì, sì, scarico a Deutschland, Da dove venite, where do you come from? Grecia, Grecia, da quanto siete qui? 3 giorni, domenica, lunedì, oggi, mangiare, dormire, dormire, niente, che tipo di trasporto fai? Trasporto olio, olio, vi hanno bloccato appena arrivati con la nave? È bloccato, non è nave, bloccato autostrata, autostrata, nazionale, polizia è bloccato qua, toalette è problema, vai mezzo chilometro per toalette, Grecia? Grecia, sì, dove va andare? Dopo Ancona, Austria, arrivo qui a Sunday morning, Saturday afternoon, Saturday afternoon, I'm waiting for a new trailer, to go to Austria, ok, quindi stava aspettando un altro, diciamo, tir per arrivare in Austria, food, you are organized? Yeah, yeah, of course, of course, because I need to do it. Sto aspettando, immagino, l'autobus come molti? Sì, sì. Da quanto tempo? A mezza oretta, purtroppo oggi pullman, tutti pullman va tardi. Sto aspettando qualche autobus? Siete appena scena? Sto aspettando il 44, siamo venuti dall'ospedale di Torrette e praticamente ci dobbiamo muovere per forza, comunque va bene che non nevica e la situazione è tutta sotto controllo. Conerobus sta dando un servizio eccellente. Siete mossi quindi facilmente? Sì, ci siamo mossi facilmente, grazie anche alla viabilità, hanno pulito le strade, quindi Ancona number one. Vi eravate informati prima di muovermi oppure avete dovuto per obblighi, per esigenze fare questa scelta? Mi sono dovuta muovere per obbligo, però mi sono informata, Conerobus ha risposto anche al telefono, dandomi tutte le istruzioni del caso. Sapevo di dover aspettare un po', però la pazienza ha avuto ragione, insomma, ecco. Dove siete stati finora, in quale vie? Via Ugubassi. Adesso dove vi state spostando? Siamo spostando, dobbiamo dare più un occhio, dopo secondo me dovranno andare vicino al comune. Da dove vieni? Da Libano.